La cosa che è più importante per me è parlare di femminilità in modo nuovo. Domandarsi che cosa significa parlare di femminilità oggi e come supportare le donne a non sentirsi necessariamente in dovere di essere stereotipate ma più che altro di poter rappresentare se stesse in un modo libero e in un modo individuale. Sono Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior. Da piccola per me gli abiti hanno avuto una grande importanza perché per me hanno significato esprimere me stessa. Più che la mia femminilità io credo che siano stati i suoi nomi o della mia libertà. Ho usato l'abbigliamento per rompere con l'idea che aveva la mia famiglia di vestirmi. Era un modo per contrappormi a loro, per spiegare a loro che io non ero quello che loro volevano che io fossi. Mia madre aveva una sartoria, sono cresciuta in un ambiente dove in fondo la moda aveva più un'idea di servizio agli altri e anche di aver cura degli altri. Molto legato all'artigianato, molto legato anche alla qualità di esecuzione. Non era un concetto moda di oggi, più legato allo stile, però sicuramente ha influenzato il mio modo di fare moda perché amo le cose ben fatte, amo anche la qualità, non solo l'immagine, ma anche quello che è al di là dell'immagine, che è il prodotto in sé. Credo che l'azienda Dior abbia avuto molto coraggio a prendere una donna come direzione creativa di una maison così storica e così anche legata a un immaginario maschile di designer passati. All'inizio non avevo percepito appieno la portata della novità, ma l'ho percepita più quando tutti quanti hanno iniziato a dire che c'era la prima donna da Dior come una cosa rivoluzionaria. In realtà quello che spero è che questo sia in futuro normale, cioè che ci si domandi più se io abbia il talento o meno per essere lì, se abbia le qualità per essere lì. Le storie di donne mi interessano tutte, dalle più famose che tra l'altro ho anche con loro lavorato per le mie collezioni sulla prima, con Cimamanda, per Wishes Be Feminist, per la T-shirt o successivamente con Linda Nockley o con altre donne, ma anche meno famose. Io credo che tutte le donne che in qualche modo cercano di realizzare i loro sogni, di realizzare la loro creatività, di dire qualcosa, sono per me estremamente ispiranti. Tra l'altro abbiamo fatto un bellissimo lavoro adesso con tutte le artiste, fotografe messicane per la prossima cruise, perché secondo me devi vedere altri punti di vista, di altri artisti, di altri paesi, di altre culture, con altre provenienze. Quello che mi piace molto è la contaminazione. Credo che questo aiuti a dare una visione del brand Dior più Worldwide. È difficile prevedere il futuro della moda. Credo che la cosa più importante sia essere capaci di cambiare con i tempi, di avere questa capacità di mettersi in discussione tutti i giorni. La moda parla del futuro, per cui ovviamente io sono interessata alle nuove generazioni. Il loro punto di vista è totalmente diverso dal mio. Sono molto più informati di noi, sono molto più internazionali di noi. Le loro critiche sono state per me fondamentali per poter mettere in discussione quello che ho fatto e migliorare rispetto al futuro quello spero quello che farò. Credo che la cosa più importante per me è dare un messaggio di non aver paura ai ragazzi, di fare le proprie scelte, di seguire i propri istinti e di avere il coraggio di fare quello che sentono, che è la loro passione. Ho avuto la grande fortuna poco tempo fa di incontrare questa persona che mi ha detto in fondo lo sbaglio è una grande opportunità. Sbagliare è una grande opportunità perché capisce molte cose. Forse bisogna cambiare il punto di vista anche rispetto a questo.